Costruzioni, attività produttive e turismo. Sono i settori nei quali tra novembre e gennaio maggiormente si concentreranno le assunzioni nelle imprese spezzine. Sono 1.450 le assunzioni che le imprese prevedono di effettuare nella provincia della Spezia per il mese di novembre e 4.570 per il trimestre novembre-febbraio 2022. Si conferma anche in questa rilevazione mensile che fa Unione Camere, Ministro del Lavoro e elaborata da Camera di Commercio la tendenza alla ripresa occupazionale. Le figure richieste sono quelle dei settori che in questo momento trainano la ripresa quindi le costruzioni, l'edilizia e il turismo. C'è da dire che sono previsioni. Ora auspichiamo che non vengano disattese laddove un ritorno come in questi giorni c'è per quanto contenuto della crisi pandemica possa invece frenare l'attività turistica. Ma dobbiamo essere ottimisti e cercare di lavorare in questo senso. Le imprese denunciano un po' la difficoltà a reperire adeguate risorse. Questo è un fenomeno che abbiamo visto manifestarsi già da quest'estate e quindi sarà necessario trovare il modo di avvicinare da questo punto di vista domande e offerte. Nel 24% dei casi i contratti saranno a tempo indeterminato e per il 6% di apprendistato. Per il restante si tratterà di contratti a termine. Il confronto fra i dati effettivi delle assunzioni e i dati previsionali ha verificato una sostanziale concordanza. Conoscere questi dati, avere sotto mano la rilevazione che mensilmente Camere di Commercio realizzano e mettono a disposizione degli operatori pubblici e privati è fondamentale. Intanto perché da un recente sondaggio, anzi analisi, si è certificato che in realtà alle previsioni di Excelsior ha corrisposto, ex post, una effettiva corrispondenza dei dati previsti. Questa è la prima cosa. E la seconda è perché, come diceva Einaudi, conoscere per deliberare. Quindi questo è fondamentale.